Sono il sindaco di Venaus, Nino D'Urbiano, e vi voglio mostrare uno degli spazi, questo prato, in mezzo agli arberi, che metteremo a disposizione come amministrazione per il campeggio del Festival ad Alta Felicità, 22, 23 e 24 di luglio. Saranno giorni memorabili per tutti, vi aspetto in tanti. Il seno supersonico ci porta in fretta via dalla felicità, cantando a squarcia la gola per difenderci da questo eccesso di veloci...